L'Otto Gatto Primo, cercate qualunque segno di movimento Questo sarà davvero un gioco da ragazzi Trovato! Oppure no Potete anche seguire le tracce del loro passaggio È un gatto davvero bravo Se tutto il resto non funziona Potete attirarli con del latte blu Ecco che arriva Aspetta, ma è davvero lui? Ma cosa? Dov'è quel l'Otto Gatto? Ecco dove sei Vieni, attento! Beh, almeno hai recuperato uno dei tuoi giocattoli